shalom 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 prima di iniziare questa lezione voglio ringraziare e dare tutti l'ordi dovuto al padre yahawa nel nome di suo figlio yahawa shai nostro re e rendentore questa lezione sarà una una sorta di repilogo ok della genealogia della famiglia di giacobbe dei figli di israele ok sarà breve yahawa vashem yahawa shai volendo e volevo anche dare un po di spiegazioni ad alcuni termini quello che uso che ce ne sicuramente ce ne sono tanti che non capiscono alcuni termini che uso perché uso spesso diverse parole dall'antico ebraico ok perciò inizio il video di solito sentite dire shalom 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 vuol dire pace a voi ok o pace a te è una parola ebraica ok comunque dell'antica ebraica ok e questo mi l'ha a questo punto mi l'ha fatto notare un fratello che mi aveva chiesto di dare spiegazioni su questi termini magari qualcuno che non capisce e sì poi verso la fine anzi lascerò questo questa sorta di vocabolario delle parole antiche no vedete qui ebraico pelio il problema è che sono scritti in inglese perciò dovrete fare la traduzione delle parole questo è l'ebraico moderno ebraico antico e se volete vedere le radici di queste parole delle scritture questi numeri sono i numeri che si usa comunque si chiama strong ok e sì che tipo di pronuncia eccetera e qui per coloro che mi interessa aggiungerò anche perdonatemi un attimo aggiungerò anche eccomi qui scusate allora qui vedete sotto qui ce ne sono i libri le scritture come sono scritte i nomi dei profetti i patriachi e matriachi ok e qui le lettere per chi è significato numerico per chi è interessato ok ebraico moderno ebraico antico ok le scritture sono scritte in ebraico antico perciò quando mi sentite dire shalom 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 sto semplicemente dicendo pace a voi pace a voi pace a voi pace a voi e qualche volta uso la parola akiam akiam vuol dire fratelli il singolare che sarebbe fratello sarebbe ak e le sorelle si usa il termine akwat ok sia singolare e plurale ok e mi sentite usare spesso ja haven't shalom 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 yah düşün querique e mi sentite dire kalalan yahava bassemb yahava bassemb much shared back dash allora kal vuol dire tutto halal vuol dire lodi ok ya hawai il nome del creatore che il mondo d'ignoranza kiama dio Bahashem vuol dire nel nome di Yahawashai Yahawashai è il nome di suo figlio Che il mondo chiama dall'ignoranza Gesù Bahashem nel nome Rukakwadash Il Rukakwadash è lo spirito santo Che è lo spirito della verità Bene, detto questo torno qui E se ci sono domande che volete fare Magari avete domande su qualche lezione che devo fare Qualcosa che non vi torna Basta commentare Yahawashem Yahawashai Volendo farò una lezione Qui vedete la foto La spiegazione delle due nazioni E si trova nel libro di Genesi 25 Versetto 25 a versetto 26 Qui leggerete la nascita delle due nazioni Che sono le due nazioni maggiori Ok? Questo rappresenta Giacobbe E questo è Esau Se andate a vedere i video che ho fatto riguardo I malvagi Allora riuscite a capire Che Esau è il seme del malvagio Ed è venuto fuori Ok? Con questo colore qui E lì saprete che non esiste il colore bianco e nero Esiste il colore marrone e il rosso Comunque sempre vi ricordo che ce ne sono tanti fratelli Che sono figli di Giacobbe Che vengono fuori così Perché i figli di Giacobbe si sono mescolati con il mondo Perciò non è una cosa di apparenza È una cosa di spirito Quando uno si sente che è parte della casa di Israele Quando sente questa verità che insegniamo noi E lo sente proprio dentro che è la verità Allora c'è la probabilità che quella persona è israelita Ok? Allora volevo andare un attimo sulla genealogia Il loro padre era Isacco Ok? Isacco era il loro padre Isacco ha avuto due mogli Ok? Anzi una moglie e una comp... Sì due moglie Ok? Che Sono Rebecca E Lea Ok? E cosa volevo dire? Poi ha avuto Mi sa Altre concubine Altre due concubine Mi sa Ok? Dalle moglie Perché come sapete I figli di Israele possono avere più di una moglie E possono avere anche delle concubine Che sono Una sorta di moglie minore Ok? E' così che il padre l'ha stabilito Affinché i uomini possano creare delle nazioni Ok? Il padre ci ha separato così Ma questo nuovo mondo Governato dai figli dei malvagi Hanno reso tutto stretto Un uomo a una donna Ok? Loro padre era Isacco Isacco Era figlio di Abramo Ok? Abramo ha avuto altri Altri Concubine Ok? E sempre da Abramo E sempre da Abramo sono venuti fuori i figli di Ismaele Che sono i così chiamati arabi Di giorno d'oggi Ok? Ok? Andiamo a vedere se qui ho Il coso delle nazioni Perdonatemi un attimo Perdonatemi Vediamo se ce li ho qui Non è qui Non è qui Sì eccolo qui Questa è la tabella delle nazioni Ok? E Israele sarebbe Yasharallah Ok? Ed è Ecco come è scritto Nell'ebraico antico E ricordatevi che si legge da destra A sinistra Questo è l'ebraico moderno E i figli dei caucasi Ok? I caucasi Europei Americani Sono Hadawam Hadawam Ok? Questa è la pronuncia E sono i figli degli Edomiti Ok? India E Elam E prima vi dicevo Che Ecco qui Abramo ha avuto anche Da lui i figli Degli arabi Ok? Che sono i figli Si chiamano Ishmael Ok? Perciò Per tornare a quello che stavo dicendo Giacobbe Perdonatemi Giacobbe Che è qui Ok? Ha preso Andate a leggere comunque la storia O guardate i video che ho fatto in passato Per capirne di più Sto solamente facendo Una sorta di repilogo Ok? Giacobbe Ha preso la benedizione Che doveva andare a Esau Comunque è stato tutto Ok? Ordinato Loro in comando Ma vi dicono che sanno poco o nulla Dei tempi del medioevo Fatevi una domanda Come mai sanno 200 biliardi di anni fa Come mai sanno il cibo che mangiavano i dinosauri Sapevano delle cose La formazione Dei organismi E non sanno dei tempi Di medioevo Non vi lo dicono Perché Loro erano in controllo I così chiamati Mori I figli Di Giacobbe Ok? Perciò Loro padre Vi ricordo di nuovo È Isacco Ok? Che Isacco è la rincarnazione Di Yahawashai Figlio del padre Andate a vedere i video che ho fatto Su La rincarnazione Salomone E Isacco Sono le stesse persone Andate a vedere i video Ok? Per capirne di più E Isacco Loro padre Era figlio di Abramo Abramo era Un amico stretto del padre E il padre dell'Abramo Era un uomo chiamato Terra Ok? E sì Hanno avuto diversi figli Hanno generato le nazioni E sì Questo video era giusto appunto Per tirare fuori Un attimo La genealogia breve Questi due Che sono i protagonisti Ok? E farvi vedere un po' Queste parole ebraiche Ok? E il significato Delle parole ebraiche Lascerò Sotto la descrizione di questo video Questo chat qui Per coloro che Hanno bisogno Vogliono imparare E il motivo Perché dobbiamo studiare il passato E capire Quello che è successo nel passato Ci è richiesto dal padre Allora andiamo a leggere Perdonatemi No Non mi serve questo Mi serve questo Perdonatemi Scusatemi un attimo Read Eccoci qui Allora Leggo Dal libro di Isaia Capitolo 46 E il versetto 9 Che dice Ricordate il passato Le cose antiche Perché io sono Yahawa E non c'è n'è alcun altro Sono Yahawa E nessuno è simile a me Il padre ci richiede Di ricordare il passato Di imparare le cose antiche Ok? Che fa parte dei nostri Compiti Se vogliamo davvero Conoscere la verità Ok? E andiamo anche a leggere Dal libro di Ecclesiaste E chiudiamo Ecclesiaste capitolo 3 E versetto 15 Ecco Cioè Che è già stato Prima E cioè Che sarà già stato E già stato E ci sono E io E io Andiamo a vedere Un'altra versione Cioè Che è E già stato Prima E cioè Che sarà E già stato Yahao conduce ciò che è passato ok c'è chi ha chiesto ciò che è passato al padre non sfugge niente dice questa versione vediamo questa versione sto solamente guardando ecco questa versione è molto più corretta diciamo ciò che è stato era già prima e ciò che da essere già è stato e Yahao ricerca quello che è passato la parola sarebbe richiede e richiede quello che è passato perciò noi dobbiamo fare queste ricerche del passato affinché il padre ci possa benedire con questa conoscenza enorme se no rimaniamo nell'ignoranza che le tenebre ok come dice il libro di Osea che i figli di Israele muoiono a causa di ignoranza detto questo spero che questa breve video vi ha edificato e spero che avete imparato qualcosina come ho detto prima lascerò un link sulla descrizione e se avete domande fatelo pure alla prossima Shalawam